Sei teso quando stai per tirare un drive? Allora guardate questo, è importante togliere tensione sulla palla. Guardate i professionisti cosa fanno quando si mettono sulla palla, quando sono posizionati i piedi stanno in movimento, le mani stanno in movimento, guardo un po' di volte, non devo stare statico sulla palla, in movimento sempre trovando questa prontezza per tirare questa palla. Quando sono rilassato metto giù l'ultimo sguardo dell'obiettivo e vado. Perfetto, video best!